Sei il vincitore del Skoda Tour, congratulazioni! Che cosa rappresenta questa vittoria per te? Una vittoria importantissima, sono arrivate tre vittorie in una settimana, sono molto contento, ci speravo perché sapevo di avere un'ottima condizione, però non immaginavo tre vittorie. Perché il Luxemburgo è stata una buona preparazione per il mondiale? Sì, veramente un'ottima preparazione perché i percorsi sono ottimi, non c'è un metro di pianura, quindi veramente un'ottima preparazione per le gambe. Che cosa hai previsto per questa sera per festeggiare questa vittoria? Adesso intanto torno a casa da mia moglie e miei figli, adesso sono solamente giorni di tranquillità prima del campionato del mondo. Grazie, buona continuazione e invoca il lupo per il mondiale. Grazie mille!